Ciao, bello, com'è? Bene, di questo mangia? Ti manco? E insomma... Tanto, non può... Ma è tazzista! Come ha detto oggi! Mannaggia Cristo! Oh, ma lei vuole parlare! Sempre, lei vuole parlare sempre! Eh? Sembra un cocorito, questo ciuffo! Mangio questo, ma... E' tazzista! Come ha detto oggi! Mannaggia Cristo! Oh, ma lei vuole parlare! Sempre, lei vuole parlare sempre! Eh? Sembra un cocorito, questo ciuffo! Mangio questo, ma... Stasera mangiamo questo bambino! Tartufo! Ecco l'uovo! Mangio gli ubi col tartufo! E della figa non so mai il stufo! Stasera mangiamo questo bambino! Tartufo! Ecco l'uovo! Mangio gli ubi col tartufo! E della figa non so mai il stufo! Oh! Ammazza che cotonfioc! Guarda che cotonfioc che hai fatto! Eh, ieri! Bello, eh! Mi ha dato una paricola! Mamma mia! Che bellezza! Sì, che me l'ha detto, Sabrina, è certo! Che bello, eh! Che? Una volta è brava, adesso erano anche arrabbiate, senti quanto ero cattivo! Ma che ha fatto ieri? Ma che ha fatto ieri? Mi stava a prendermi le orecchie! Adesso perché urli? Eh? Che ha fatto ieri? Mi ha dato un po' di stai, tu sei qui! Sì, adesso è venuto a prendermi perché pioveva, pioveva forte, io con il carrettino l'ombrello ne posso portare! Eh! Lui ha detto, ma Aracuna come far venire? È venuto qua, si è presentato, mi hanno detto quelle ragazze, guarda un po' chi c'è fuori dalla porta! Mi sono girata, stai guardando quest'ombrello, sei lì fuori! Che uomo! Io sono venuto fuori, che ha fatto la foto, tutto! Che uomo! Bello, bello!